bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi ovviamente siamo su giustic world il gioco e voglio andare a fare con voi una bella battaglia e vediamo se riusciamo a vincere dal volo poi qua un bel anfibio e contro quello un altro erbivoro si va a vincere un bel pacchetto quindi proviamoci assieme vediamo un po se riusciamo a vincere ragazzi allora qui intanto mettiamo subito una bella riserva sono migliorato eh ho fatto un po di strategia un po di combattimenti in questi giorni in teoria sono più forte vediamo un po come va mi immagino si difenda no mi attacca immediatamente va bene così ok ok siamo a 3 ottimo cambiamo il dino andiamo qui e facciamogli 2 di attacco ragazzi così da poterlo già fare morire questo qua buono ok e via e uno già tolto dalle scatole ragazzi perfetto ottimo tocca a lui tocca a me lui si è difeso di 2 io direi di metterli tutti in riserva così da avere più spazio per dopo ok vediamo dovrebbe attaccarmi no che si è difeso probabilmente io ho 7 contro quindi possiamo metterci questo qua ragazzi e fare proviamo così 3 di attacco 2 difesa e una riserva vediamo come va ok intanto un attacco glielo faccio gli faccio un bel po di danni perfetto mi difendo di 2 ho anche una riserva ragazzi ok lui mi fa solo due danni al 50% quindi non dovrei neanche morire ok perfetto bene così ok proviamo la tutta facciamo un 4 di attacco una riserva e via ottimo anche questo è morto ragazzi perfetto 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 così mi piace l'ultimo il suo ultimo il suo ultimo dinosauro tocca a me lui si è difeso di tutto probabilmente li faccio così due difese e 3 riserve così poi da fare un attacco gigante ok lui ha 5 probabilmente si è difeso di tutto quindi io farei così facciamo facciamo un massimo lì due attacchi e una difesa ok si difenderà va bene ok l'avevo già calcolata no problem ragazzi ok ok buono così buono così lui ha 6 mi fa 3 di attacco ok quindi con gli altri 3 si è difeso probabilmente va bene ok allora andiamo qua cambiamo subito il dinosauro e attacchiamolo tutto ragazzi e dovremmo esserci vediamo ok come avevo calcolato comunque muore ragazzi come vi dicevo un po di strategia sono riuscito ad acquisirla con questi combattimenti in questi giorni quindi questa vittoria ce l'abbiamo in pugno e andiamo subito a vedere cosa cosa ci riserva questo pacchetto che si vince grazie a queste battaglie sono quelle a tempo quindi avevamo tipo 70 ore per poterla fare ok pacchetto raro ragazzi andiamo subito ad aprirlo via 48.000 monete 180 dna 48.000 monete e attenzione cosa c'è di dietro ragazzi wow dinosauro raro nasù nasuto ceratopo bellissimo questo bellissimo ok fine missione anche perfetto accogliamo questi 25 dollari io direi di andarlo subito a sbloccare questo qua nuovo ragazzi ok tra un'ora e 50 è già pronto poi nel prossimo video ovviamente ve lo faccio vedere andiamo a raccogliere anche il pacchetto misterioso classico un po più semplice ok questo appena sbloccato c'è anche questo che faccio l'ultima decorazione al volo insieme a voi ragazzi mettiamoci qualcosa di decente va facciamo questa qua dai qui ok ragazzi questo era un video veramente al volissimo per farvi vedere i miei miglioramenti in battaglia che almeno ci siamo vedete che non vi abbandono e poi vabbè volevo farvi vedere questo spacchettamento raro quindi era proprio un volo un video così al volissimo ragazzi io come sempre vi ringrazio per il vostro supporto i vostri like della serie volevo farvi vedere anche questo qua che è nuovo dov'è questo qui forse non l'avevate visto l'altra volta sempre dinosauro raro erbivoro molto carino e basta poi gli altri in realtà li avevate già visti penso poi prossima volta vi faccio una bella panoramica generale del parco ragazzi e nulla ci vediamo sicuramente al prossimo video ragazzi e bella lì